Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, sono in ufficio, sono tornato ieri sera, stamattina, sono in ufficio, c'è un po' di, mettiamo un po' di luci, non sono più abituato a fare video, sono tornato dalla Puglia, pazzesco, vabbè, non ho risolto molto, allora intanto voi iscrivetevi al canale, oggi vi regalo una roba assurda, dovreste iscrivere e commentare un'idea mai fatta prima, scendiamo tutte le luci, idea mai fatta prima ragazzi, iscrivetevi solo perché sono in questo ufficio e dovrei essere al mare, sono tornato dalla Puglia e ancora prima siamo stati in montagna e ancora prima in Grecia, non è giusto, adesso riparto, non me ne frega niente, comunque iscriviti al canale perché sto per regalarti un'idea per un cash cow channel pazzesco, allora stavamo lavorando con il mio team, io ho dei ragazzi incredibili che fanno i video per tutti quelli che seguiamo, abbiamo il programma Marrakesh, se non sai di cosa sto parlando vai su cash.michellemaradino.com praticamente ti aiutiamo a mettere in piedi un cash cow channel, cioè un canale youtube senza faccia che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale praticamente ti permette di realizzare video in poco tempo, di qualità, cerchiamo di trovare la ninchia giusta per te, di monetizzare il canale e ti facciamo anche noi i video, c'è un pacchetto, un'offerta, vai su cash.michellemaradino.com pazzesca perché tu hai due ore di consulenza con me dove capiamo quale canale fare, dove ci sono più soldi, come guadagnare e poi hai un videocorso completo dove impari proprio come fare tutte le cose, come si scrivono i titoli, come trovare gli argomenti, come si mettono gli hashtag, tutte questioni pratiche, tutti i consigli se ho anche youtube perché youtube è anche un motore di ricerca e vanno rispettate tutte queste regole, ok, e praticamente poi hai anche già quattro video pronti, ok, così puoi iniziare subito col botto vai su cash.michellemaradino.com se sei interessato e guardati anche lì, ovviamente l'offerta a pagamento, ma se vuoi c'è anche un corso gratuito, vai su corsogratis.michellemaradino.com dove approfondisco, diciamo, come io guadagno mettendoci la faccia su youtube, ok, quindi creando dei video, vendendo in una nicchia che è la musica che mi seguo lo sa e vendendo servizi, infoprodotti se ci vuoi mettere la faccia, corsogratis.michellemaradino.com, se vuoi creare un cash cow channel senza metterci la faccia, entra nel programma Marrakesh, costa un po' di più, però ti conviene, parti senza fare errori, cash.michellemaradino.com, comunque tutti i link sono in descrizione stavamo lavorando a questo canale youtube con un cliente e dopo aver fatto la consulenza, aver scelto la nicchia, ho messo il team a lavorare, mi manda il primo video, bellissimo, il secondo video e diciamo che utilizziamo delle voci molto reali, ok, tutti dicono ma con l'intelligenza artificiale, poi escono video tutti uguali, no ragazzi, si possono fare dei grandi lavori ci sono canali youtube stessi di miei clienti che prima o poi dovrò superare la pigrizia e intervistarli, gente che sta ottenendo risultati incredibili se ci si impegna e si cerca di curare tutti i dettagli, a partire dalla voce che si sceglie, perché tu puoi far creare un testo a CRGPT di un video darlo in pasto a dei tool, abbiamo visto Flicky, ce ne sono tanti, Pictory, che gli dai il testo e loro ti ridanno le immagini che hanno senso in base al significato del testo, quindi già tu paghi un abbonamento e quello in 5 minuti ti fai il video gli dai un testo e il tool di intelligenza artificiale ti mette le immagini, i video che si alternano, i sottotitoli di una voce narrante allora siamo arrivati a dei livelli che le voci sembrano incredibili e c'è questo ragazzo che appunto mi aiuta e sta nel mio team diciamo e fa i video, che sta utilizzando questa voce femminile che sembra molto reale sembra addirittura, avete presente il film R, credo si chiami così, di quell'uomo che si innamora dell'intelligenza artificiale, ecco, è uguale quella voce donna sensuale robotica allora mi è venuta una grande idea, ho detto ma voglio lanciare un cash cow channel di un determinato di un determinato argomento, però poi ho detto va bene questo lo regalo, quest'idea ecco perché dovete venire in consulenza perché io ho le idee che poi su misura, cucite su misura perché quando venite in consulenza, quando prendete marrakesh e fatelo perché avete due ore io capisco in base a quello che vi piace, al lavoro che fate, alle esperienze che avete avuto quale argomento trattare e come monetizzarlo ok, non soltanto con le visualizzazioni ma anche con le affiliazioni ok e mi vengono queste idee e bisogna essere originali, se no qui tutti a fare i video sui tre posti da vedere a Barcellona mi viene il primo, diciamo, cash cow channel semplicissimo da realizzare che può essere appunto quello sui viaggi, ma ce ne saranno migliaia quindi bisogna essere originali quindi cash.michelemarellino.com comunque vi do questa idea, iscrivetevi al canale commentate, Miki sei un pazzo scrivetelo, ora vi dico l'idea se vi piace, commentate, supportate, iscrivetevi, commentate, condividete almeno vi do gratis una consulenza praticamente qualcuno di voi potrà prendere e fare sua questa idea ricambiate con iscrizione, like e commento Miki sei un pazzo maledetto allora l'idea è creare una fidanzata virtuale un canale youtube dove praticamente le persone possono guardare dei video in cui c'è questa voce bellissima che racconta le sue esperienze le persone possono poi commentare, chattare nei commenti e quindi ora seguitemi perchè all'inizio uno dice ma che sta dicendo però una bella voce sensuale femminile e ce ne sono nei tool di intelligenza artificiale che ti racconta la sua giornata però tu il canale lo chiami fidanzata compagnia su youtube e i video dove scorrono delle immagini e la voce ti racconta oggi sono stata lì ho fatto questo, mi piacerebbe tanto incontrare una persona fare delle domande anche sei tu interessato a conoscermi a me piace, create praticamente anche una sorta di carattere di interessi e fate video in cui questo suo carattere questo suo interesse vengono fuori magari non la mostrate è soltanto una voce proprio ispirandomi a quel film la gente potrebbe ascoltare i racconti ovvio che ci deve essere tutto congruo, coerente nel senso create prima il carattere la personalità di questa ipotetica ragazza e poi iniziate a fare video dove racconta le sue giornate e la gente potrebbe appassionarsi e ascoltare e poi commentare magari potreste affiancare un servizio di chatbot andatevi a vedere il mio video su come creare una fidanzata AI per tutti quelli che poi vogliono chattare con questa persona però ecco video credetemi io sono un visionario la gente potrebbe pensare ma che cavolata ma provate a farla io ci credo prenderebbe piede magari gli date un nome invece di mettere fidanzata compagnia mettete un nome e un cognome femminile ok e fate i video con questa voce parlante ciao sono Carola e sto cercando faccio video per cercare nuove 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 amicizie oggi ti racconto quello che ho fatto mi sono svegliata presto e intanto tutte delle immagini che scorrono nei video e piano piano questi video possono fare un sacco di visualizzazioni essere diciamo anche avere tanti commenti perché voi dovete poi spingere le persone a commentare dicendo che risponderete ai commenti persone che magari sono sole potrebbero commentare voi rispondete tanto engagement che succede succede che il canale può esplodere fare un voto di visualizzazioni e lì si aprono scenari ad un certo punto potreste creare con l'intelligenza artificiale anche diciamo il volto di questa di questa youtuber donna in cerca di compagnia ok è un cash cow channel inedito originale che nessuno fa sareste i primi io ve la regalo quindi scrivetemi commentate perché è un regalo ditemi cosa ne pensate ma commentate per me è una grande idea cioè nessuno fa cioè riuscire a trovare qualcosa di originale è la cosa più importante io vi sto dando un'idea che è venuta non credo esista nulla del genere non ho controllato ho iniziato subito a fare il video ma io credo che non esista nulla del genere voi sareste i primi magari poi ne usciranno tante ma mettiamo agli atti questo è il video in cui io ho lanciato questa idea fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iscrivetevi al canale nella descrizione trovate tutti i link se volete essere seguiti da me e lanciare il vostro cash cow channel cash.michelemaraglino.com link in descrizione oppure se volete mettere online le vostre competenze le vostre passioni e guadagnarci passate dal corso gratis andate su corso gratis.michelemaraglino.com perché lì proprio c'è tutta la mia esperienza di come guadagno con michele maraglino musica il mio canale musicale perché io vengo dalla musica chi mi conosce lo sa poi ho aperto questo canale business tutti i link sono in descrizione fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea di questo cash cow channel e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao